Finalmente, è proprio il caso di dirlo. Dopo tanta attese è arrivato il grande giorno per fondi, i fondani ed i fan italiani di Virginio Simonelli. Già da questa mattina la città è stata invasa da centinaia di ammiratori del cantautore fondano. Questo di oggi è senz'altro un evento che finalmente mette in luce un carattere dei fondani che si era perso sotto il fango pretestuoso degli ultimi anni. L'arte è sempre stata di casa nella piana. Un tempo la cittadina era soprannominata la piccola Firenze, proprio perché esprimeva sotto diversi profili molti uomini di cultura e talento. Virginio è sicuramente figlio di questo carattere, lo certificano le canzoni che scrive anche per altri artisti. Segno di una capacità che non si placa all'interpretazione e che si spinge attraverso uno spirito pioniere anche in altri ambiti. Il concerto di questa sera rappresenta il ringraziamento ad un intero popolo che si è stretto attorno al suo figlio il prodigo proprio nel momento di necessità. Anche grazie alle migliaia di fan che lo hanno supportato da ogni parte d'Italia e che oggi rappresentano materialmente il suo più imponente gruppo d'ascolto, Virginio e la sua arte hanno vinto un talent che negli anni è diventato un cult. Crediamo che l'emozione sarà tanta e che inevitabilmente ognuno si farà prendere da esse, Virginio per primo. D'altronde lo ha dimostrato svariate volte, in diverse occasioni, scrivendolo addirittura a chiare lettere nella copertina del suo cd, che deve molto alla sua città e ai suoi concittadini. Gli organizzatori, comuni di fondi e canale fanno affidamento sul pubblico affinché tutto si svolga nel migliore dei modi.